Un incendio di discrete dimensioni ha interessato l'area di Caromanda e la parte della laguna. L'avvistamento della colonna di fumo è iniziato attorno alle 15.30 e è andato avanti almeno fino alle 16.30. Al momento non conosciamo che cosa bruciasse, ma è facile immaginare che, come ci sono i Piroma e la Chioggia, evidentemente anche in quella zona qualcuno ha pensato bene di dare fuoco a qualcosa. Verso le 16 sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco di Venezia con la nave. Al momento non abbiamo altre informazioni, ulteriori eventuali aggiornamenti in seguito.